I ragazzi della classe 5M dell'Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris di Scampia visitano la Product and Process, azienda napoletana con una storia lunga 20 anni nella ricerca di soluzioni innovative a servizio dell'industria. Il professor Amedeo Enrico che con la professoressa Anna Uccelli ha accompagnato i ragazzi all'interno dell'azienda ci spiegherà il perché di questa visita. Una delle finalità del processo di formazione del quinto anno è il conseguimento di specifiche competenze sul ruolo delle tecnologie e dell'informazione all'interno di un'azienda in cui oggi i nostri studenti potranno vedere come tutto ciò che hanno studiato viene realizzato in concreto, in un'impresa reale, ascoltandolo direttamente dalla viva voce delle persone che lavorano all'interno della stessa. Noi miriamo a diventare un punto di riferimento per i clienti che operano nel general industry, nell'automotive, che producono prodotto, un punto di riferimento per garantire la qualità dei loro prodotti, assisterli nel processo produttivo e fare in modo che riescono a raggiungere l'obiettivo di produzione zero difetti. Noi abbiamo lavorato molto per specializzare la nostra offerta di macchinario, riuscendo a configurare un impianto altamente flessibile, in grado di essere riconfigurato su una vasta gamma di prodotti e questo ci permette di andare su diverse tipologie di comparti produttivi. Inoltre abbiamo lavorato molto sull'infrastruttura di base per garantire un'integrazione completa, totale, con gli impianti preesistenti e questo è decisamente forse il punto di forza principale perché investire nella nostra soluzione significa valorizzare gli asset preesistenti. Che competenze servono per realizzare Quality Gate? Sicuramente le competenze sono multidisciplinari nel caso di applicazioni complesse come quelle del Quality Gate. Sicuramente la fa da padrona la conoscenza della visione artificiale che è alla base, almeno per quanto riguarda i nostri sistemi di collaudo e sicuramente anche forti conoscenze sulla parte di sviluppo di programmazione a alto livello. Naturalmente il tutto è completato dal fatto che fornendo un impianto finito chiave in mano servono effettivamente anche conoscenze di automazione che poi nel contesto dell'applicazione vengono ben fuse con tutta la multidisciplinarità dell'applicazione stessa. Da dove nasce l'esigenza di creare un'infrastruttura come orchestra? L'esigenza nasce dal mettere insieme tutta una parte di sviluppo di automazione con la parte di sviluppo sul lato PC e quindi di alto livello. Naturalmente per creare un'infrastruttura come orchestra è stato prima necessario definire bene per ogni dispositivo, quindi vedi PLC e vedi PC, dove distribuire i vari pacchetti software proprio per determinare i compiti e le responsabilità di entrambi i dispositivi.